Tu sai cos'è il diaframma e soprattutto perché è importante stimolarlo? Il diaframma è un muscolo indispensabile per la respirazione, oltre a questo dà benefici comunque perché è collegato sia a livello viscerale che a livello addominale a degli organi. Oltre a questo è ottimo per darti un benessere a 360 gradi di relax, ma soprattutto per la digestione e per l'umore. La è lasciata al caso, infatti nei nostri programmi sia corpo che viso, lavoriamo tantissimo nella zona diaframmatica. Perché? Perché mi servono per aiutarti per la respirazione e secondo per sciogliere, per ammorbidire il diaframma che è sempre teso, causato da tensioni che si accomodano durante la giornata. Perché noi donne siamo proprio proprio brave a somatizzare proprio dove c'è lo stomaco e guarda guarda proprio dove c'è il diaframma. E è indispensabile per darti ancora di più i risultati che io voglio darti. Ciao! 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 Grazie a tutti.